Ciao ragazze, oggi voglio mostrarvi i miei 5 rossetti preferiti. Iniziamo subito col primo rossetto, quello della Essence, lo 05. Questo è un nude chiaro che va sul beige. Mentre il secondo rossetto è sempre della Essence, lo 07. È sempre un nude, però è più scuro, che va sul rosato. Il terzo rossetto è della Essence, è il numero 14, ed è un rosso scuro, con una punta di borbogna. Matte, è un rossetto matte e dura molto, ha una buona durata. Poi passiamo al quarto rossetto, è quello della Kiko, è il numero 706. Ed è un rosa perlato, che è quello che ho adesso sulle labbra. Questo qua è il rossetto, molto molto delicato. E come ultimo rossetto ho quello della Kiko, il numero 04. Che è un color prugna, matt. E' molto molto bello questo qua. E dura veramente molto. Questo è il mio preferito, quello che amo di più. Ok ragazzi, questi sono i miei 5 rossetti. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, quali rossetti avete voi. E se vi è piaciuto, spolliciate in su. Grazie, ciao.